E bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video In verità non mi ricordo cosa stavo facendo Ah si qui la galleria Non prende tanto bello Qui innanzitutto sembra Venezia Allora Aspettate un secondo eh Eccoci tornati raga Questa è la casa che avevo fatto ieri Salita la luna Allora Allora Beh andiamo qui che c'è da costruire Allora La possiamo fare sull'acqua in un punto Tipo questo Dove non avevo fatto niente Oh bello Ah è vero Devo costruirlo Questi 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 Beh beh e che sti voi Allora 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 Un attimo Un attimo Ecco Mmm Està finita Sun lock Beh adesso dobbiamo un po' allestirla Perché C'è sun lock dentro spiana d'acqua spiana d'acqua spiana 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E anche bella. Va bene. Io vi saluto qui. Vi iscrivetevi al canale. Mettete mi piace al video. E a tutti gli altri video. Io vi saluto qui. E vi lascio al prossimo video. Ciao. Ciao.